Intanto inizio per ringraziare Giorgio De Finis, che è uscito un attimo per una cosina tecnica, poi lo ringrazierò anche dopo. È sempre un po' difficile iniziare per raccontare una storia che l'anno prossimo fa 30 anni. Inizierò dicendo che è una storia di amicizia con Maurizio e Mario. È iniziato per essere un progetto di passione, non una professione. È iniziato a San Gimignano, in una bellissima cittadina, persino troppo bella, un po' congelata, come purtroppo in tanti posti in Italia tutto si è congelato e il contemporaneo fa un po' di difficoltà, dove viviamo grazie a chi ha fatto delle cose giuste, belle, secoli fa. Viviamo, non ho paura di dirlo perché a San Gimignano è ancora così, sfruttando il passato e non lasciando niente, non solo nel presente, ma per il futuro. Quindi con Maurizio e Mario, vedendo un po' questa realtà, dove i propri concittadini aprono le porte a un passaggio, a un flusso e che non fanno niente per la propria città, perché ero testimone di visite per sostenere progetti culturali a San Gimignano, concerti, opera e la risposta era sempre, ma che bisogno c'è? C'è tanta gente che viene a San Gimignano quindi addirittura talmente tirchi da non dare 50.000 lire per sostenere un'attività culturale, per dare vita alla città, perché erano già troppi soldi, nonostante loro guadagnassero tantissimi lire, tantissimi euro oggi, grazie a ciò che ci hanno lasciato. Questo ha fatto sì che con Maurizio e Mario volevamo fare qualcosa, anche essere un minimo, ma esistere, attivare le energie che avevamo, mostrare ciò che succede oggi, volere essere solo un piccolo gradino per fare un passo in più, pensando che è sempre meglio essere una goccia per partecipare all'oceano che non essere niente. Quindi ecco, nasce così la galleria, nasce per fare qualcosa insieme per la propria città, quindi a San Gimignano. Abbiamo iniziato in un piccolo spazio, che era un garage, mi ricordo ancora le misure, 6,08 m, 3,27 m, 3,19 m di altezza, con un milione di lire per uno, quindi 500 euro a testa, ma, ripeto, per fare un progetto insieme, qualcosa per la città dove eravamo. E' diventata una professione dopo dieci anni. Nel frattempo, fino all'anno 2000, facevamo dei lavoretti per sopravvivere, perché avevamo famiglie, affitti, quindi l'arte non ci permetteva di vivere. Però in questi dieci anni siamo diventati ricchi, ricchissimi, di esperienze, di incontri, di progetti, di sogni, e questo credo sia la più grande ricchezza. Questo ci ha dato la benzina per continuare. Il nome continua è solamente per dire continuare, essere un po' un punto tra il passato, il presente e il futuro, continuare una storia. Molti hanno pensato, continua, lotta continua. Però io ho avuto addirittura il professore in teoria e metodo di mass media a Deriano Sofri, all'Accademia a Firenze, però non c'era nessun legame. E' quello che stiamo cercando di fare, però questa continuità per non era solamente parlare del presente, ma legare il passato con il futuro. Ed è per questo che abbiamo anche, nello stesso momento che abbiamo aperto la galleria, aperto anche un'associazione culturale, che si chiama Arte Continua. per il volere intervenire sullo spazio pubblico, per volere sensibilizzare o portare altre persone con noi nell'arte contemporanea, interagire sul territorio, sull'urbanismo, sull'architettura, fare progetti per tutti. E quindi con la galleria abbiamo anche fatto Arte Continua e abbiamo creato questo progetto che si chiamava Arte all'arte, che era invitare degli artisti a vivere dei luoghi come San Gimignano, come Volterra, come Siena e creare un'opera nuova per una piazza, per una chiesa, per una fonte. Devo dire che l'inizio sono stati molto, molto difficili perché a quei tempi, nel 1995, quando parlavamo del progetto, la reazione di molti artisti era ma no, non mi interessa, ma figure in una piazza, ma figure in un... gallerie, musei, cioè c'era un'idea diversa. a parte artisti più attenti alle idee, ai quali siamo molto riconoscenti, artisti più conosciuti, che hanno accettato la sfida. Poi il progetto si delineava anche con l'attenzione delle nuove generazioni, quindi vedavamo per Arte all'arte sei artisti con un'idea di diversità, che era tre giovanissimi, tre più affermati, un solo italiano e gli altri di ogni paese, di vari paesi diversi tra loro, in modo che l'incontro anche fosse una specie di salotto, di dialogo tra diversità. Non era solo l'opera che andavamo a fare, ma l'esperienza che si creava. Artisti giovani, che potevano essere oggi più conosciuti, non so, Olafur Eliasson, Tobias Reberger, anche Anish Kapoor, che a quei tempi non era Anish Kapoor di oggi, artisti più attenti, più conosciuti, al quale appunto ci hanno dato una grande mano, perché il nome, si sa, dà una qualità a qualcosa che non si conosce. Quindi, un grazie a Daniel Buren, un grazie a Michelangelo Pistoletto, un grazie a Sol Luit, che non ci guardavano come tre giovanissimi, giovani da San Gimignano, che non avevano niente da dare, perché alla fine non è che compravamo opere, avevamo una lista di collezionisti, o avevamo un brand come Galleria Continua. Eravamo solamente tre ragazzi, che avevano voglia di fare qualcosa per la loro città, il loro territorio e il loro paese. Ci hanno ascoltato con sincerità, e hanno lavorato con noi. Questo è stato anche un altro aiuto, che ha fatto sì che la Galleria Continua continuasse, perché ci ha aperto altre porte, facendo progetti molto particolari, che vi miravano sempre al piacere. Un'esperienza che ci porta oggi, molti sono stupiti, dicono che in questo mondo è l'arte, è il business, come l'avete fatto dopo quasi 30 anni ad essere ancora insieme. Alla fine è molto semplice, abbiamo deciso dall'inizio di avere un salario, con quello si campa, e quello che avanza, che si fa? Con questo che si fa, per esempio, anche lì sulle ali della conoscenza, del rispetto di un artista, che si chiama Chen Zen, morto molto giovane, a 40 anni, si è aperto per noi una curiosità, perché quest'uomo era straordinario, a me mi ha cambiato la vita, la cosa che potevamo fare è almeno andare a incontrare il paese dove lui era nato. Quindi, la Cina è stata non un ammirato, un'intuizione, è stato solamente un desiderio di conoscere meglio Chen Zen. Quindi siamo andati in Cina, casualmente, tanto la vita è fatta di tanti incontri, in tanti casi, arriviamo in un momento dove c'è una specie di piccola rivoluzione degli artisti. C'era un quartiere dove gli artisti avevano gli studi che volevano distruggere per costruire i grattacieli. Veniamo a sapere da una persona italiana che viveva a Pechino di questa cosa, gli artisti fanno una manifestazione per questo motivo e noi diciamo ah, ma andiamo anche noi, andiamo, che si va in questo 798 a manifestare con gli artisti. E stando in quelle vie, in quel luogo, che è molto particolare, che è un'architettura della Bauhaus dove costruiamo delle armi, ci viene lì un modo un po' ingenuo di dire ah, apriamo uno spazio qui come un'idea di resistenza. E quindi decidiamo di aprire uno spazio a Pechino diventando la prima galleria straniera con programma internazionale aprire in Cina. Questo ci ha paradossalmente aperto delle porte inattese. Noi abbiamo tentato di fare un ragionamento di quelli a marketing in Cina compran la Ferrari, compran la moda, compran questo, compran quest'altro, andiamo lì, abbiamo le artisti che lì non hanno, Capur, Buren, Pistoletto, vendiamo, perché non c'è nessuno. Arriviamo lì, niente di niente, chi è Capur? Boh, chi è Pistoletto? Boh, anzi, quasi ci prendono per scemi perché i prezzi che noi dicevamo di questi artisti per loro erano, non conoscendoli, allucinanti. Quindi non si vendeva niente, però è successo un fatto non calcolato e che aver aperto in Cina ci ha dato una visibilità pazzesca. Questa galleria da San Gimignano apre a Pechino, la prima galleria straniera apre a Pechino, tutto, quindi paradossalmente a San Gimignano, piccola città, mentre ogni anno il fatturato aumentava il 10%, 15%, apriamo in Cina 40% a San Gimignano, solo per un fatto di simpatia di persone che aveva bello o visibilità. Oltre a questo l'attenzione degli artisti, la voglia di dire mentre a San Gimignano fai una mostra magari in 3-4 anni, 5 anni, 6 anni, Pechino ci dava la possibilità di esporre ancora degli artisti. Per loro era la prima volta che andavano in Cina, quindi creare dei legami anche di esperienza comune. E quindi la Cina è andata così, grazie a Chen Zen, con un'idea falsa, pensando che comunque non prendevamo nessun rischio, invece tutt'oggi la Cina è difficile perché non è un paese semplice per importazione, esportazione, ma tutti sappiamo che la Cina si sa difendere. Quindi siamo lì continuando a fare mostre, progetti molto interessanti in uno spazio che abbiamo che permette molte cose, ma per il piacere perché qui abbiamo un carissimo amico che può testimoniare quanto la Cina è difficile, Wanru che è proprio cinese, però per noi è una bella avventura, rimane un'avventura speciale, quindi fino a quando possiamo resistere rimarremo in Cina. Ci sono gallerie molto più potenti di noi che hanno aperto dopo di noi, come la Pace che ha chiuso a Pechino proprio per la difficoltà, per i problemi che questo causa. Dico questo per dire che i motivi per cui apriamo gallerie è sempre un'esperienza che ci deve arricchire. Così, questa è la mia bambina, lei si è bella annoiata, la perdoneremo. Sempre quest'idea che per noi non è stare al centro ma stare fuori dal centro, abbiamo deciso di fare un progetto sempre per un incontro nello spazio, un luogo bellissimo, bucolico, in Francia che è un paese molto centrale su Parigi, tutto succede a Parigi, le campagne sono una dimensione altra che la grande città, decidiamo di seminare un territorio con l'arte contemporanea che è un'ora da Parigi dove quando si vede l'arte si sentono le mucche, si ascolta gli uccellini, grande spazio e con la voglia lì non si sa perché di invitare le scuole ed è chiaro che le scuole magari uno potrebbe dire investono sul futuro futuri collezionisti però il piacere visto lo spazio e gli spazi erano tanti di creare the workshop far capire perché l'arte e quindi lì facciamo molto più cioè un'attività incredibile che poche persone sanno sulla didattica sicuramente migliaia e migliaia di persone bambini con gli ospedali psichiatrici handicappati è una gioia anche lì per noi perché si vede quanto l'arte è importante a vari livelli paradossalmente magari è un segno facendo questa operazione di andare fuori a Parigi alla campagna arte contemporanea per 15 anni anche una persona che viveva lì accanto ha visto conosciuto capito l'arte contemporanea e adesso è il ministro della cultura in Francia che era sindaco e tutto quindi è il segno che seminare decentrarsi non volere stare sempre nello stesso centro aiuta a generare cose nuove a migliorare le situazioni questo è un po' a breve linee l'esperienza italiana cinese francese cuba è un altro tipo di esperienza ancora molto particolare vi spiegherò perché che parte dalla biennale di Marrakesh che è un altro luogo non centrale non è una biennale di quelle straconosciute però lì viene invitato un artista italiano Michelangelo Pistoletto a presentare il suo segno del terzo paradiso non so se conoscete questo segno che è una specie di infinito a tre cerchio che vuole rappresentare un contenuto che dice semplicemente che tra degli estremi bisogna cercare di trovare un equilibrio tra due religioni tra due idee diverse ma funziona anche nella nella pittura con due colori otteniamo un terzo colore quindi invece di annientarsi o di opporsi a un'idea cerchiamo di trovare la via di mezzo la fusione per un dialogo per una costruzione di qualcosa di diverso spiegato questo segno a una persona che era lì presente che cubana curatrice Laura Salas Redondo vede questo segno e dice questo è fantastico per Cuba come sapete a Cuba c'è questa opposizione da 60 anni tra un piccolo paese e un grande paese Cuba e gli Stati Uniti quindi organizza Michelangelo è d'accordo di fare questo terzo paradiso tra l'altro scegliendo un modo molto complicato perché l'idea è di mettere il terzo paradiso sul mare tra gli Stati Uniti e Cuba convincendo dei pescatori cubani ad andare in mare senza permesso perché a Cuba se si va con la barca senza permessi non per andare a pescare ma per fare figuriamoci un segno vuol dire o vai negli Stati Uniti o chissà che cosa cioè rischi la galera spiegandogli questo segno decine decine di pescatori accettano di andare in mare a disegnare con le loro barche questo segno del terzo paradiso lo scopo era per unire era il 16 dicembre del 2014 il giorno dopo 17 dicembre 2014 a Raula e Obama si parlano al telefono abbiamo degli agganci noi per primi siamo rimasti esterefatti felici i pescatori hanno pianto cioè sembra una cosa vabbè sono commosso moltissimo perché in qualche modo hanno pensato o magari è vero chissà che controllo satelliti questo pistoletto lo dice pistoletto quindi Raul e Obama subito chiamiamoci no detto questo è stato un caso probabilmente incredibile però questo caso ha fatto sì che noi abbiamo deciso di continuare a volere rimanere lì a creare dei ponti nuovi a fare cultura perché a Cuba avere una galleria privata è contro la legge non è permesso ci sono alcune gallerie ma sono del governo quindi quando arrivi in un territorio che non è il tuo ci sono delle regole diverse cerchi o ti adatti o dialoghi appunto non è che ti imponi quindi abbiamo cercato di incontrare il governo ci siamo riusciti gli abbiamo spiegato chi eravamo cosa volevamo fare cosa eravamo disposti a fare ma che volevamo rimanere a Cuba a fare cultura e a portare Cuba fuori da Cuba e il fuori di Cuba a Cuba hanno accettato quindi siamo i primi e l'unici stranieri che fanno cultura a Cuba perché per loro la cultura è qualcosa di fondamentale è un paese coltissimo e quindi da quattro anni siamo a Cuba dove facciamo mostre dove lavoriamo nel quartiere abbiamo uno spazio che non è nell'Havana vecchia storica restaurata ma siamo in un quartiere popolare anche lì in un vecchio cinema teatro nel quartiere cinese è l'Havana non so dove questo è a Pechino ora io sto raccontando la storia non è che voglio raccontare le opere questo per dare un po' di colore cose che abbiamo fatto negli spazi darvi un po' la cornice dei luoghi e anche lì Cuba ci ha insegnato cioè non è che andiamo lì e diciamo ah bravi diamo ma prendiamo anche noi quindi che sia stato la Cina la Francia Cuba è tutto lo scambio e la nostra voglia è di continuare di fare tanti soldi per spenderne tanti per fare tanti bei progetti non so in Africa in India non so ecco diciamo che per noi il mezzo sono i soldi ma lo scopo sono i progetti ed è avere veramente una vita ricca di di ricordi di aver condiviso delle cose che amiamo e un po' quelle facciamo noi tre è solo che ci piace far crescere questa famiglia ecco quindi no scusate vado per quello che si è fatto quello che con Maurizio e Mari abbiamo condiviso abbiamo avuto un gran culo anche c'è c'è stato un amico che ci ha un po' analizzato i nostri conti per cercare di migliorare per fare meno spese per cercare di non fare degli sprechi ci ha detto ma lo sapete che avete rischiato di fallire almeno otto volte non ci siamo mai resi conto adesso vogliamo continuare cerchiamo di stare un po' più attenti di fare dei budget cosa che fino ad oggi andiamo sempre a braccia per questo dico abbiamo avuto culo perché poi siamo tre con passione si butta sempre il cuore al di là dell'ostacolo si fa questo non è che si dice ma aspetta ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo quindi da quel punto di vista lì abbiamo avuto fortuna abbiamo avuto anche tanti amici magari ci hanno seguiti che noi per noi tipo i collezionisti non so collezionisti sono amici perché condividono un percorso una strada poi quando bisogna venire a trovarci bisogna fare la strada San Gimignano non è vicino il mulino nemmeno Cuba Cina abbiamo organizzato anche in Cina con appunto degli amici quando abbiamo aperto la galleria un tour qui c'è Ines che è qui presente c'era così a Cuba ecco per noi questa è la nostra benzina poi ci sono gli artisti gli artisti sono come dire indispensabili quelli con cui abbiamo lavorato ci hanno dato fiducia oggi uno potrebbe dire la galleria continua è più conosciuta abbiamo più garanzie io li consiglio di guardare i nostri conti forse penserebbero diversamente no ma a parte le scherze che all'inizio capisco che era più difficile perché venivamo da niente eravamo a San Gimignano e quelli che ci hanno accompagnato in tutti questi anni sono stati anche coraggiosi io farò un esempio per tutti perché domani tra l'altro inaugura una mostra al mattatoio di Pascal Martin Tayou che è un artista del Camerun ci piaceva tantissimo il suo lavoro e dopo due o tre anni che non vendevamo praticamente niente un giorno a Pascal gli dico Pascal mi dispiace ma cioè boh magari non siamo la galleria giusta magari non lo so però forse meglio trovo un'altra galleria perché noi non riusciamo e la sua risposta è stata ma voi vi fidate del mio lavoro mi piace certo ci piace ecco allora io mi fido di voi questo è stato è stato fortissimo perché non si parlava più di soldi di guadagni di successo si parlava veramente di condivisione e non solo questo ti dà una forza in tutto perché vedi che la meta è condivisa Pascal poi tra l'altro è un artista che viene da un paese difficile dall'Africa da niente e quindi abbiamo continuato a lavorare a fare delle cose per lui e finalmente poi è arrivato il successo per Pascal adesso c'ha le opere c'ha quattro grandi opere al Guggenheim al Slateita al Pompidou c'ha un mercato solido però il rapporto con lui è sempre il solito e tante cose così ci sono successe agli artisti quindi vedere che c'è una condivisione che lo scopo non è quanti soldi ti rimangano ma quante cose fai per te per il mondo per i figli purtroppo forse le cose cambieranno però insomma noi non è che abbiamo voglia di essere i più ricchi del cimitero ecco vogliamo stare insieme poi come Maurizio e Mario spesso litighiamo non è che è tutto rose e fiori abbiamo idee diverse desideri diversi però litigare non vuol dire separarsi vuol dire costruire qualcosa di diverso se vogliamo stare insieme quindi è un confronto continuo e questo è quello che noi tutti ci auspichiamo da chi dovrebbe secondo me governare le culture i popoli prima facevo un'intervista con Monica per Radio Rai purtroppo mancano dei visionari mancano persone politici che dovrebbero essere quelli che hanno una visione a 30 anni che idee per pensare al futuro di lasciare invece no cioè la scadenza è le prossime elezioni vincere le elezioni e per me è un grande peccato io dico queste cose io anche in Francia le ho dette ho fatto anche una lettera aperta contro L'On che fece la sua apparizione a Grand Palais e poi alla fine un'operazione seguente fu che chiuse il Grand Palais che diceva no la cultura deve essere il motore della Francia due mesi dopo chiude il Grand Palais quindi penso che manca visione manca desiderio manca non capisco cioè noi fino a oggi ce l'abbiamo fatta con 500 euro a testa San Gimignano in un garage con le idee con con la voglia di di sorridere di si può fare tante cose non per professione ma per passione noi siamo partiti per passione è diventato una professione e ci sono tantissime realtà bellissime nel mondo di volontari che aiutano quelli che hanno bisogno ecco credo che l'arte può insegnare tanto cioè l'arte per me non è quel che si vede è ciò che porta intorno a sé non è l'oggetto ma è l'uomo gli incontri che si fa intorno a questa sensibilità che si esprime come un oggetto per questo che a Cuba una delle nostre leggi interne come Maurizio e Mario non è di portare le opere a Cuba fare una mostra trasportando delle case con delle opere dentro e l'artista viene dall'inaugurazione e le installa nello spazio prima pretendiamo che l'artista venga a Cuba capisca dov'è cosa fa e faccia delle opere sul luogo cioè che si nutre della di quella terra che è una terra diversa e diventa un'esperienza per sé importante come è capitato in questi quattro anni che si chiamano Alish Kapur che si chiama Giovanno Zola giovani o famosi ed è questo che rende il tutto importante che rende la mostra importante per i cubani che incontrano anche l'artista per gli artisti che incontrano i cubani la mostra le opere d'arte sono il conduttore e il conduttore l'elettricità passa dove l'energia arriva quindi per questo per noi è importante continuare non so quali saranno i prossimi progetti perché poi nasce tutto un po' così per caso un po' una scintilla si accende un fuoco ma non non abbiamo un'idea cosa faremo quale sarà la prossima tappa e questa è la galleria continua con Maurizio e Mario è una storia di tante persone e tra l'altro senza altre persone che sono della nostra famiglia chi lavora con noi a San Gimignano all'inizio perché sono persone che si fanno un'ora di macchina per arrivare un'ora per partire qualcuno due ore addirittura e non per lo stipendio ma perché c'è una passione non siamo un luogo facile dove siamo è sempre complicato dove c'è Charlotte e ne sa qualcosa poi non lo so io spero che sia sempre così che possiamo aprire altre strade altre cose che anche cercare di essere un po' più grandi e stare un po' più attenti per non ritrovarsi male tanto qui ci sono varie persone che ci conoscono e sanno quello di cui sto parlando magari altri meno forse le invito a venire a trovarci a San Gimignano a Cuba non so dove volete c'è la prossima inaugurazione sabato tra poco se avete qualche domanda qualche cosa così condividiamo grazie a tutti grazie a tutti